Il protocollo nasce da una collaborazione ormai decennale con il sovrano ordine di Malta che lo scorso anno ha voluto donare all'ordine degli psicologi un automezzo per l'intervento in emergenza riconoscendo l'importanza dell'intervento psicologico in emergenza in casi di calamità naturali e di violenza urbana. Siamo particolarmente contenti di questa scelta effettuata dall'ordine di Malta e ci siamo messi al lavoro e all'opera per capire in che modo coinvolgere i colleghi psicologi e in che modo mettere a punto tutta la procedura per l'intervento.